Volete una ricetta sprint? Un salva cena? Ve la propongo. Allora, parmigiano, prosciutto cotto, almeno 2 etti, 7-8 zucchine, olio, sale, pangrattato, del formaggio che avete. Io ho della groviera, però potete fare come volete, qualsiasi altro formaggio. Per prima cosa, chiaramente, andiamo a togliere le estremità delle zucchine e poi le andiamo a fare a ridurre a fettine, così, 2-3 mm. Dopo averle affettate, aggiungiamo del sale, del pangrattato, 60 g, circa 40-50 g anche di parmigiano. Chiaramente più ce ne mettiamo e più è buono. Un pochino di pepe, non guasta. Ora mescoliamo il tutto con le mani, perché chiaramente ogni zucchina deve essere ben condita. Cominciamo a ungere un po' la teglia, con dell'olio, olio extravergine di oliva, un pochino di pangrattato. Cominciamo a mettere le zucchine. Così possono bastare. Aggiungiamo del prosciutto cotto. Il cipollotto. Aggiungiamo il formaggio. E di nuovo uno strato di zucchine. Filo d'olio. E a questo punto il gioco è fatto. Andiamolo a mettere al forno. A 180 gradi per 40 minuti. Il nostro piatto è pronto. Guardate che meraviglia. E poi soprattutto sarà buonissimo. Alla prossima.